Buongiorno a tutti e benvenuti nell'ecocwartiere di Vauban, forse il più famoso ecocwartiere d'Europa. Che cos'è Vauban? Vauban è una specie di trapezio con un'area di poco meno di mezzo chilometro quadrato, un chilometro di lunghezza, mezzo chilometro di larghezza ed è stato costruito al posto di una vecchia caserma francese che è stata chiusa nel 1990. Nel 1990 la città doveva dare dei posti per abitare alle persone che continuavano a venire a Friburgo e aveva deciso di costruire un nuovo quartiere al posto di questa vecchia caserma francese che era stata chiusa nel 1990. Un gruppo però di cittadini, diciamo alternativi, ambientalisti, studenti, intellettuali che avevano voglia di provare a vivere in un modo un po' diverso, hanno chiesto alla città, hanno chiesto al comune di poter fare un quartiere appunto diverso, un cosiddetto ecocwartiere. Si parlava di quartiere senza auto, di quartiere alternativo. All'inizio la città non ne voleva sapere, il comune, e poi finalmente l'ha accettato e si è deciso appunto di costruire un quartiere che avesse caratteristiche diverse, caratteristiche per uso dello spazio, caratteristiche diverse per mobilità, caratteristiche diverse per quanto riguarda l'edilizia. E nei prossimi video vi facciamo vedere che cos'è questo quartiere diverso.